Da venerdì DOT porta tra i 60 e i 100 monopattini anche qui sul litorale di Roma, nel municipio Decimo a Ostia, per avviare una sperimentazione. Ricordiamo quali sono le principali regole sul monopattino, non si va assolutamente in due, per noleggiarlo servono più di 18 anni, ricordatevi che state portando un mezzo che arriva fino a 25 km orari, quindi attenzione, ma soprattutto divertitevi a Emissioni Zero.